Adesso facciamo invece una serie di esercizi per gli arti superiori, in particolare per la spalla. Quindi prendiamo il braccio sempre da sotto il gomito, stabilizziamo la spalla e trazioniamo verso l'altra. La posizione va mantenendo 20-30 secondi, quindi da giù, tenendo ferma la spalla, andiamo verso l'altra. Adesso facciamo un altro esercizio per la spalla, prendiamo il braccio, stabilizziamo la spalla e portiamo il braccio in direzione a un posto. La posizione va malzionata per 20-30 secondi, quindi da giù, apriamo, stabilizziamo e trazioniamo in direzione a un posto e torniamo. Grazie. Grazie.